buonasera benvenuti a tutti e per la presentazione del nuovo ma in realtà di dicembre numero di limes che appunto che appunto si intitola la svizzera potenza nascosta siamo qua con fabrizio maronta buonasera buonasera a tutti e in realtà prima di iniziare vi raccontiamo di un aneddoto appena scoperto sul circolo dei lettori cioè vi illustreremo un aneddoto inedito su cavur che a sorpresa legato a questo numero e pare che abbia frequentato queste stanze assolutamente tanto è vero che diciamo l'ultima sala in fondo si chiama sala cavur perché pare che diciamo qui cavur abbia insomma sia stato diciamo fisicamente presente e tra le altre cose diciamo abbia firmato atti importanti per la nascita del dello stato unitario per cui insomma direi che va a fagiolo voi direte che c'entra cavur con la svizzera c'entra molto che è una delle ragioni per cui tra l'altro abbiamo voluto fare questo numero per ricordare anche a noi stessi che confiniamo con un paese di cui sappiamo ci ricordiamo troppo poco esatto quindi adesso facciamo un passo indietro rispetto a cavur e spiegaci perché dedicare un numero alla svizzera un vicino di casa che diamo forse un po' per scontato c'è lo stereotipo del cioccolato della neutralità e degli orologi ma cos'è la svizzera oggi? Allora lo stereotipo degli orologi sì è vero ma come tutti gli stereotipi in realtà diciamo una bella base di diciamo di sostanza ce l'ha tant'è vero che c'è un articolo in questo numero di Marcello Spagnulo che è uno degli esperti di spazio che scrive per l'IMES che parla del fatto che il maggior contributo alle missioni shuttle della svizzera sono stati gli orologi omega perché avevano una precisione più che millimetrica e sono gli unici che passarono i test di vibrazioni diciamo e di funzionamenti in assenza di gravità e quant'altro che erano estremamente stringenti della NASA per dotare per l'appunto gli equipaggi di orologi da polso e non per le missioni shuttle però al di là di questo allora questo è un numero chiaramente un po' particolare insomma non parla di attualità stringente e non parla nemmeno di grandi potenze scontri tra grandi potenze come normalmente come spesso fanno i nostri numeri ahimè anche diciamo ultimamente poi da quando negli ultimi anni la competizione appunto geopolitica in senso lato si è cruenta e meno cruenta si è si è acuita però allo stesso tempo è proprio un classico numero da limes perché diciamo la l'idea che abbiamo del nostro lavoro non è quella solamente di fotografare il fatto eclatante ma è anche di andare a cercare delle chicche o comunque diciamo delle situazioni dei soggetti in questo caso la svizzera che hanno una rilevanza diciamo geopolitica in senso lato strategica quindi economica culturale storica militare nel caso anche della svizzera e hanno dei modelli istituzionali particolari e soprattutto nel caso e questo è il caso della svizzera oltre a essere un paese a noi estremamente vicino quindi che sarebbe il caso di conoscere non fosse altro per questo nelle sue caratteristiche è un paese che ha la capacità di essere molto più di quanto spesso non ci appaia cioè un paese che in effetti ha dei lati appunto tra virgolette nascosti e non perché diciamo sia un paese più di altri diciamo restivo a mostrarsi anche se in effetti specialmente per quanto riguarda la svizzera tedesca probabilmente è così ma anche soprattutto perché per l'appunto è un paese estremamente stereotipato il che però vuol dire che ha una forte proiezione culturale quando sei oggetto di forti stereotipi normalmente vuol dire che hai un marchio in qualche modo e noi italiani ne sappiamo qualcosa perché nel bene e nel male noi siamo molto spesso oggetto di stereotipo altrui allora che cos'è diciamo che fa la potenza nascosta tra virgolette della svizzera beh innanzitutto il carattere come dire quasi miracoloso del fatto che esista la svizzera questo diciamo è un argomento che non ci lascia insensibili perché anche noi siamo un paese che per molti aspetti diciamo sfida la forza di gravità sappiamo bene in che modo avventuroso e assolutamente non scontato sia stata fatta tardivamente tra l'altro l'unità d'italia quali siano le tare anche in termini di divari territoriale quanto altro ci possiamo appresso quanto varia e variegata fosse il panorama diciamo in termini di livelli socio-economici dialetti quindi diciamo culture che contraddistingueva la penisola al momento dell'unificazione figlia diciamo degli stati risorgimentali e quindi della frammentazione coltivata tra l'altro ad arte da le varie potenze che ci hanno di volta in volta invaso però ecco la svizzera è un caso particolare la svizzera diciamo tecnicamente potrebbe essere l'afghanistan cioè la svizzera è diciamo un paese che se ci pensate bene a non ha sbocco al mare e già questo non è un dettaglio perché l'essere privi di sbocchi al mare è normalmente un bonus enorme per un paese perché lo espone gli rende più difficile il commercio e lo espone poco anche sì all'invasione è vero ma anche proprio poco all'osmosi all'interscambio cioè ciò che normalmente arricchisce Marco Polo è partito da qua Cristoforo Colombo è partito diciamo dalla penisola iberica nessuno dei due è partito dalla svizzera guarda caso e poi è un come l'afghanistan perdonate il paragone un po' come dire blasfemo ma per capirci è un paese che potrebbe essere visto se non fosse la svizzera come il ritaglio in realtà di imperi e di paesi altrui cioè l'italia ma in realtà diciamo in questo caso lo stato asburgico con delle l'impero asburgico diciamo la parte meridionale dell'impero asburgico anche a est la prussia a un certo momento la francia ovviamente quindi insomma stiamo parlando di un paese che potrebbe cioè che diciamo la cui genesi storica poteva effettivamente sfociare in una sorta di residualità invece non è così e gli svizzeri amano raccontarsi anche la svizzera un paese tra l'altro in cui il mito ha un potere e un'importanza fondamentale il famoso Guglielmo Tell, Guglielmo Tell non è mai esistito tra l'altro il mito di Guglielmo Tell predata Schiller di molto si trova diciamo in documenti storici svizzeri che risalgono al 200 per cui insomma molto prima appunto del barocco del barocco tedesco ma la cosa interessante diciamo il mito è parte della pedagogia diciamo nazionale un po' di qualsiasi del portato culturale un po' di tutti i paesi non solo della svizzera però la svizzera ha questo mito della appunto del Guglielmo Tell quindi della ribellione al potere costituito e dell'atto volontaristico dei primi tre cantoni diciamo della svizzera tedesca che nel diciamo nel 700 anni fa più o meno qualcosa di più ormai si uniscono con un atto confederativo un atto federativo e da quel momento mettono insieme le forze per fondamentalmente non essere diciamo feudi di di alcuno questo mito svizio il mito della libertà dell'autodeterminazione che poi si ripropone anche diciamo istituzionalizzato nel modo assolutamente peculiare che gli svizzeri hanno di esercitare la democrazia con un uso che altrove sarebbe assolutamente inconcepibile anche in stati di uguale dimensione demografica o anche più piccoli dell'istituto referendario cioè votano continuazione su tutto che presuppone tra l'altro un'informazione notevole della dell'opinione pubblica la svizzera un paese in cui si leggono ancora molti giornali convive con l'altro mito però che è quello della montagna la svizzera diciamo paese condizionato non solo da ciò che le sta intorno ma anche dalla sua geografia interna e questo è un altro diciamo un altro dato sorprendente cioè normalmente l'elemento orografico quando è di ostacolo condizione in maniera fortissima e normalmente negativa lo sviluppo diciamo le relazioni pensate banalmente all'appennino cioè si pensa spesso alle alpi a pensare all'appennino io ci metto quattro ore di alta velocità da roma a venire qua e poi ci metto altrettanto andare da roma a pescara grazie il treno fa schifo sì ma fa schifo perché diciamo l'italia ha un secolo e mezzo suonato dall'unificazione non ha mai investito tanto sulle connessioni est-ovest in parte anche diciamo per la divisione appenninica quindi diciamo la svizzera è un paese per certi aspetti diciamo miracoloso che tiene insieme infatti costituzionalmente tre lingue ufficiali l'italiano anzi se dovessimo dirlo qui lo dico e qui lo nego in ordine ufficioso di importanza dovremmo dire il tedesco il francese l'italiano ma di fatto tutte e tre lingue ufficiali a rimerito più una quarta il romando che in realtà è lingua ufficiale solamente nella zona romanda cioè non per tutta la svizzera ma che comunque poi chiaramente ecco uno dei miti da sfatare è che gli svizzeri siano perfettamente trilingui tutti quanti non assolutamente vero molti svizi tedeschi parlano l'italiano più o meno come non so un alto atesino che esce raramente di casa però insomma sono lingue ufficiali sono un paese multiconfessionale tra l'altro voi mi direte non sono l'unico verissimo però ecco pensate per esempio al belgio il belgio è un paese che presenta delle caratteristiche simili alla svizzera doppia lingua diciamo protestanti cattolici ma è un paese molto più artificiale della svizzera brussell è una capitale francofona vissuta in maniera come una sorta di astronave apolide dai diciamo dalla cintura fiamminga che la circonda perché abitata da gente che lavora nelle istituzioni internazionali e che se ne frega diciamo del resto ginevra che è la capitale diplomatica della svizzera in questo caso francese è una città invece fortemente svizzera che è vero ha una dimensione anche qui diciamo di expat come si chiamano cioè di gente che lavora per istituzioni internazionali ma non è un'astronave diciamo calata sulla svizzera e mal vissuta dal suo intorno per esempio quindi diciamo la svizzera è un melange sotto questo profilo piuttosto diciamo piuttosto riuscito ed è appunto dicevo poi valli e quindi è un paese in cui poi le città hanno un'importanza fondamentale perché agglomerano non solo abitanti ma diciamo sono anche come dire i punti di riferimento delle varie divisioni funzionali delle varie parti della svizzera zurigo è fondamentalmente la capitale economica in parte anche finanziaria ma soprattutto industriale apro e chiudo parentesi la svizzera ha capacità di proiezione industriale notevolissima non è solo soft power quello della svizzera c'è lo stereotipo del dell'isola felice che in parte tra l'altro è uno stereotipo che gli svizzeri autoalimentano anche per se stessi anche se poi non è solo quello chiaramente ma è anche un paese di multinazionali nestlé migros la catena i supermercati l'industria bellica delle armi di un paese però neutrale e l'industria finanziaria stessa che non è solo segreto bancario tra l'altro sempre meno ma è proprio diciamo servizi finanziari che per esempio fanno ormai da decenni una concorrenza diciamo sulla qualità a posti come per esempio o francoforte anzi anche rispetto a francoforte anche direi piuttosto diciamo mediamente di qualità più elevata ginevra dicevo è la capitale tra virgolette o comunque il polo diplomatico quindi della svizzera aperta al mondo il ticino è diciamo un polo turistico è un polo in parte bancario che tra l'altro ha dovuto rivedere fortemente il suo grande amore per la cultura della riservatezza come gli svizzeri chiamano diciamo la ritrosia a rivelare l'origine dei patrimoni che sono nelle banche e questo perché qualche anno fa la svizzera ha dovuto firmare un accordo sulla cosiddetta volontà di disclosure in cui fondamentalmente diciamo viene impedito in gran parte dei casi di diciamo portare fuori diciamo soldi in maniera così facile da altri paesi come avveniva prima tra l'altro diciamo con varie misure per rientro dei capitali insomma è molto più difficile e la piazza finanziaria ticinese infatti ha reagito non ha abbandonato del tutto diciamo questa segretezza però di fatto se voi andate a vedere adesso diciamo è molto più aperta di quanto non fosse un tempo ed è un paese tra l'altro demograficamente piccolo 9 milioni quindi insomma la lombardia più o meno non va derrata anche la città più grande che zurigo è piccola di sorino esatto quindi è molto concentrato molto concentrato esatto ma allo stesso tempo ha due milioni di immigrati e passa su una popolazione di 9 milioni non è esattamente uno scherzo e anche qui e chiudo su questa prima parte uno dei miti da sfatare è che il denaro diciamo sani tutto innanzitutto perché non tutti gli svizzeri sono ricchi tra l'altro il paese la svizzera è un paese in cui c'è un benessere diffuso piuttosto c'è un benessere piuttosto diffuso ma c'è anche data la quantità di denaro che c'è nel paese ci sono fortissime concentrazioni di ricchezza cioè la svizzera è uno dei paesi con i milionari in franchi svizzeri o in euro in dollari diciamo il percentuale della popolazione più elevati del mondo quindi c'è un paese in cui non è vero che non ci siano le diseguaglianze e poi c'è comunque l'aspetto della frizione culturale cioè non è che dato che c'è lavoro allora è tutto facile la svizzera non ha le banlie parigine non ha le periferie non so di napoli e di palermo ma ha comunque diciamo i suoi ghetti e ha le sue difficoltà e diciamo all'integrazione ha le sue resistenze legislative e culturali all'integrazione e ha diciamo il suo problema anche a concepire l'immigrazione come surrogato di una demografia che in alcune parti della svizzera specialmente la svizzera italiana tende a essere abbastanza debole quindi un problema molto simile a quello che abbiamo noi quindi diciamo per tutte queste ragioni già solo dal punto di vista interno e mi sono fondamentalmente fermato dal punto di vista interno nemmeno esaurendolo tra l'altro però ecco diciamo è un paese che presenta una quantità di peculiarità e una quantità di paradossi storici e attuali che la rendono diciamo già di per sé una bella palestra diciamo di analisi grazie come spesso accade in questo incontro penso che la parola sia complessità perché ne è emersa veramente l'immagine di un paese che ha tante contraddizioni ma che comunque rimane insieme prima dicevamo ad esempio che nella seconda metà del 2023 ci sono state le elezioni ma non hanno avuto una grandissima copertura mediatica perché essendo il loro modello quello della democrazia di concordanza alla fine si mantiene sempre questa stabilità che li porta anche a forse un po' di difficoltà nel cambiamento in parte sì ci sono autori che lo ammettono apertamente però ecco questa cosa della democrazia della concordanza interessante poco prima di venire qui ho fatto un'intervista per un quotidiano svizzero perché questo volume diciamo in svizzera ha avuto un particolare eco e perché effettivamente non è un paese di cui si parli normalmente in questi termini quindi diciamo gli svizzeri quando vedono un volume di una rivista diciamo straniera diciamo che parla della svizzera in maniera articolata francamente quasi tra secolo ma perché l'avete fatto detto questo si parlava del consociativismo perché l'intervistatore uno svizzero mi diceva ma vede per quale ragione cioè noi abbiamo questa democrazia della concordanza che effettivamente adesso vi dico in due parole in che consiste è una democrazia un modello consociativo però se io lo dico a lei mi diceva questo spero che mi capisca se io lo dico a un italiano x cioè nel senso una persona che non si occupa non si è mai occupata in via di svizzera questo pensa diciamo che siamo un paese di mafiosi ed è vero questo cioè effettivamente mi ha portato a riflettere che anche nel nostro lessico il consociativismo ha un'accezione negativa il consociativismo che cos'è fondamentalmente diciamo è il fare gruppo in maniera normalmente diciamo nepotistico affaristica per bypassare diciamo per aggirare la norma per saltare la fila tra virgolette cioè fondamentalmente per fare lobby in maniera scorretta rispetto diciamo al sistema delle regole al sistema democratico questo è se dovessi dare una definizione funzionale di consociativismo non semantica ma funzionale spesso e volentieri quello che noi pensiamo diciamo in termini di consociativismo e questo può essere consociativismo diciamo nell'economia nella politica in generale da loro no allora loro hanno questo sistema assurdo per cui loro hanno questo governo diciamo di adesso non ricordo per un periodo da sette poi hanno passato a nove membri se non vado errato sono sempre sette allora in qualsiasi paese il numero di ministeri cambia non solo perché bisogna distribuire le poltrone questo non lo facciamo solo noi ma perché possono cambiare le esigenze se devo fare una riforma agraria faccio un ministero dell'agricoltura enorme se ho un grande problema di debito pubblico posso decidere come fu fatto ai tempi di Tremonti ministro della dell'economia di unire economia e finanza diciamo perché effettivamente avere un ministro delle finanze che diciamo fosse diciamo che che non coprisse anche l'aspetto economico per un paese indebitato come il nostro non era l'unica ragione ovviamente però insomma la ragione funzionale era quella cioè la il debito l'aspetto finanziario per l'italia condiziona talmente tanto l'economia perché gli investimenti pubblici e quant'altro che diciamo aveva senso funzionalmente oltre che politicamente in quel caso unificarlo tutto quello che volete gli svizzeri non gli svizzeri hanno nove hanno sette ministeri e questi sette ministeri sono tra l'altro assegnati con una sorta di manuale cencelli in misura proporzionale ai risultati dell'elezione ai partiti che compongono il governo di coalizione che è un governo il cui premier ruota ogni anno circa tra i capi cioè tra gli esponenti dei partiti di coalizione quindi non hanno il premier hanno diciamo il diciamo presidente la confederazione che cambia che ruota allora una cosa del genere se l'immagina diciamo in una sorta di cioè sembra quasi per certi aspetti un sistema politico ottocentesco che di democratico a poco cioè sembra consociativo nel senso deteriore del termine che noi spesso attribuiamo alla parola però se poi vai a vedere loro ti dicono e non solo loro i rappresentanti delle istituzioni lo dice il parlamentare o il ministro potresti pure dire che insomma è un po di parte ma gli stessi svizzeri ti dicono in maniera convinta che questo sistema invece è una garanzia di responsabilità perché responsabilizza i partiti tu non puoi stare nel governo facendo l'opposizione interna come spesso succede da noi non faccio nomi perché tanto potrei farli di tutti i colori perché insomma da Bertinotti a Salvini più o meno è un modello collaudato no tu devi stare nel governo perché sai che non solo è la responsabilità automatica di un dicastero e quel dicastero non ti viene assegnato perché tu batti i piedi è assegnato perché è previsto che tu ce l'abbia e quindi quando tu concorri per le elezioni già sai che dovrai prenderti una responsabilità di governo ma poi il tuo partito a rotazione ricoprirà anche il ruolo diciamo apicale quindi per loro questa diciamo è una forma di responsabilizzazione della politica la quale politica viene responsabilizzata anche con appunto quest'uso incredibile del sistema referendario anche questo ti fa riflettere perché innanzitutto loro hanno referendum che nella maggior parte dei casi sono le chiamano iniziative popolari e sono referendum in molti casi propositivi questo anche nella costruzione diciamo nella sintassi e nella semantica dei quesiti è diciamo un tipo di referendum tendenzialmente più comprensibile di quello abrogativo perché il referendum abrogativo ti dice c'è il microfono lo vuoi abolire devi votare sì non lo vuoi abolire devi votare no già questa inversione molto spesso nella nostra storia di uso come dire colpevolmente strumentale e un po truffaldino spesso del quesito referendario se voi vi andate a prendere le battaglie anche per esempio dei radicali sul modo in cui dovevano essere durante gli anni 70 80 la stagione del referendario per l'appunto come doveva essere formulati i quesiti referendari molto spesso c'è una delle battaglie sulla chiarezza dei quesiti invece molto spesso il referendum l'iniziativa popolare svizzera è dobbiamo fare il parcheggio perché anche questo lo volete sì no se il comitato diciamo se il la circoscrizione in questo caso municipale vota no il parcheggio non si fa chiaramente il in questo caso l'amministratore diciamo di turno competente si deve spendere per dimostrare il parcheggio serve o non serve questo diciamo è un uso del referendum che in molti altri posti anche diciamo in posti che prendono che hanno ancora diciamo della politica un'immagine migliore di quanto la possiamo avere tendenzialmente in italia anche se in occidente ormai sono abbastanza pochi è un uso che appunto in molti altri posti tenderebbe a svalutare l'istituto cioè mi fai dare una volta due tre vi ricordate è possibile andare a votare no su la caccia che ne so la formica è possibile che il parlamento non si debba occupare no per gli svizzeri il parlamento può anche fare la proposta di legge però sono io che poi deciso se la caccia la formica deve essere aperta e in che stagione dell'anno e su quali e con quali diciamo caratteristiche quindi effettivamente c'è una tenacia diciamo così un attaccamento al a questa democrazia consociativa potremmo dire che forse per certi aspetti è in un simoro ma diciamo funziona e io diciamo sospetto che funzioni anche perché è il modo migliore quantomeno forse non l'unico possibile non il migliore in assoluto ma il modo migliore che storicamente gli svizzeri hanno trovato di far funzionare diciamo un paese così eterogeneo un paese in cui se tu non hai una coinvolgimento e una responsabilizzazione permanente della classe politica e della cittadinanza è facile che ognuno diciamo tenda a andare un po per conto proprio e poi gli svizzeri vivono molto per conto proprio perché poi i ticinesi guardano la televisione ticinese quindi in italiano e gli svizzeri francesi guardano la loro televisione in francese i tedeschi svizzeri diciamo guardano loro o tutt'al più qualche canale qualche canale tedesco austriaco insomma quindi c'è poi effettivamente una non voglio dire una segregazione ma una separazione nelle vite quotidiane però poi diciamo questo diciamo questa questo quotidiano separato trova dei punti di come dire di sintesi in queste diciamo istituti che poi se andate a vedere la cosa incredibile che funzionano anche qui per ritornare al paragone del belgio non so chi di voi abbia anche solo una vaga familiarità col sistema istituzionale belga è una follia cioè i belgi per esempio non hanno un'intelligenza antiterroristica come dio comanda perché i diciamo in questo caso non i pesi e contrappesi ma le interdizioni reciproche dei vari livelli diciamo del federalismo belga sono tali per cui mentre nella svizzera diciamo questi istituti federali fondamentalmente riescono diciamo a creare un sistema che funziona in belgio creano esattamente l'opposto cioè è un diciamo una situazione kafkiana in molti casi i belgi sono loro stessi che te lo dicono per primi e ci fanno le barzellette sopra e quant'altro insomma sì ma anche la famosissima fake news 2006 quando una parte del belgio pensava che l'altra avesse dichiarato unilateralmente l'indipendenza e la notizia era stata ritenuta credibile perché la comunicazione era così poca che anche nelle verifiche c'erano stati dei malintesi e quindi a un certo punto il paese era finito sull'orlo di una rivolta per per questa questione quindi anche degli impatti in primis nella storia recente recentissima i secundi se anche con una possibile proiezione decisamente più grave e aggiungo anche per darvi un'idea del numero di referendum che siamo andati a cercare dalle 1848 ad oggi ce ne sono stati 664 il che significa che le consultazioni sono state in media 3,8 all'anno e parliamo solo di quelle nazionali quindi il famoso parcheggio a livello locale quella è una consultazione che è scorporata da questo numero quindi immaginate andare alle urne in media quattro volte l'anno per quesiti referendari tra l'altro tu hai citato il 48 il 48 è un anno costituzionale in svizzera perché la svizzera si dota di una nuova costituzione che poi con varie 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 aggiustamenti è fondamentalmente la base della costituzione federale odierna apre chiudo parentesi la svizzera è nota come confederazione tra l'altro anche nella denominazione ufficiale loro ci tengono sono su questo tradizionalisti confederazione elvetica quindi ch però in realtà oggi anche costituzionalmente la svizzera è un paese federale non confederale ma la cosa interessante è che fondamentalmente se voi pensate alle guerre del 48 la guerra diciamo svizzera che poi fu piuttosto la guerra del Sonderbund diciamo di questa lega di cantoni in gran parte cattolici che volevano un po' come il sud degli stati uniti secedere e che invece sono stati mantenuti dentro dai cantoni protestanti guidati da un generale dufour che tra l'altro era della svizzera francese una guerra brevissima una settimana che fece il minor numero di morti possibili poche diciamo un centinaio scarso perché il generale stesso del dei cantoni diciamo del nord protestanti aveva avuto mandato da questi di fare meno vittime possibili affinché la guerra lasciasse meno strascichi possibili quindi una situazione molto diversa dalla guerra civile per esempio degli stati uniti e ma la cosa interessante è che questa oltre a essere l'ultima guerra che la svizzera fa non solo sul proprio suolo ma in assoluto non ha più fatte da allora è fondamentalmente l'unica diciamo rivoluzione tra quelle del 48 che effettivamente sfocia in una costituzione come dire diciamo non reazionaria se ci pensate bene cioè mentre tutti gli altri 48 diciamo d'europa vengono repressi e riportati nell'alveo del consenso di vienna del congresso di vienna del 15 il 48 svizzero produce perché che cosa fa fondamentalmente diciamo la costituzione del 48 è un compromesso tra il conservatorismo politico del dei cantoni cattolici e il liber il tendenziale liberalismo politico di quelli protestanti e conseguentemente viene diciamo sancito a livello diciamo costituzionale l'impianto fondamentalmente diciamo liberale della confederazione cosa che prima invece non era e c'è un altro aspetto interessante diciamo a proposito in questo caso congresso di vienna napoleone l'atto di nascita diciamo della svizzera confederale il fatto che la svizzera abbia potuto sopravvivere come confederazione al congresso di vienna è fondamentalmente merito di napoleone uno dei governanti più accentratori e centralisti diciamo che potete pensare di un paese la francia che fondamentalmente napoleone si inscrive nella tradizione del della monarchia assoluta francese per molti aspetti ebbene napoleone diciamo quando conquista il ticino che tra l'altro non si chiama ticino allora questo nome giro da napoleone prova a imporre un diciamo un assetto centralista alla svizzera perché diciamo nell'ambito dell'impero francese diciamo un paese tra l'altro abitato da francofoni con un assetto federale diciamo dal suo punto di vista era inconcepibile alle soglie di batterlo lui si rende conto diciamo che è un errore perché la svizzera come paese centralista non può funzionare cioè l'eroe napoleon si rende conto che ha fatto un errore cioè che la svizzera non è un paese la svizzera non può funzionare in modo centralistico e dal momento che diciamo come dire diciamo dal suo punto di vista la svizzera è meglio che ci sia rispetto a che non ci sia fondamentalmente ripristina l'assetto confederale e questo è confermato dopo Vienna dopo il congresso perché la svizzera diciamo serve come stato cuscinetto cioè Francia da una parte Asburgo dall'altra di lì a poco la Prussia decollerà diciamo come potenza europea è assolutamente necessario uno stato che in qualche modo funga da cuscinetto tra i grandi imperi e questo è dopo Vienna ciò che salva per l'appunto la svizzera dalla fondamentalmente di fatto dal anche dallo smembramento perché poi diciamo la svizzera nell'assetto di Vienna era una sorta di mosca bianca insomma c'è un paese confederale diciamo che aveva un assetto multilinguistico come gli grandi imperi del tempo l'ottomano l'asburgico ma che non aveva un impianto però diciamo assolutistico monarchico assolutistico quindi era effettivamente diciamo un fattore di disturbo nell'assetto di Vienna. Potevano suicidarsi con la guerra del Sondenburg appunto a metà dell'ottocento non l'hanno fatto questo quindi diciamo ha anche alimentato negli svizzeri il mito dell'isola felice cioè fondamentalmente che è uno degli altri miti della Svizzera insieme appunto a Guglielmo Tello la montagna e quant'altro cioè l'idea che diciamo la Svizzera sia quel che è fondamentalmente per l'irriducibile forza di volontà dei suoi abitanti a cominciare dalla Svizzera germanofona che è quella che dà vita per l'appunto all'atto federativo originario. Questo è un mito diciamo che gli svizzeri stessi più accorti si rendono conto essere un mito un po' pericoloso. L'articolo che apre questo volume è di questo storico che ha scritto un libro stupendo che si chiama che è in tedesco lui è uno svizzero tedesco si chiama Mitten in Europa in mezzo all'Europa. L'abbiamo rinominata figlia dell'Europa diciamo questo articolo il suo libro tra l'altro è in traduzione sarà tra poco diciamo verrà edito in Italia. Ora la cosa interessante ci sono due articoli storici molto secondo me esplicativi della Svizzera uno che apre la prima parte Onestine e uno che apre la seconda parte Thomas Meissen la Svizzera non è un'isola. Allora la cosa interessante è che queste due persone tra l'altro da posizioni anche politicamente abbastanza distanti arrivano fondamentalmente alla stessa conclusione. Gli svizzeri la devono piantare di pensarsi diciamo come dire isola felice impermeabile ai mali del mondo e soprattutto tale solo e unicamente per i loro meriti perché in realtà diciamo la Svizzera è figlia del contesto diciamo europeo almeno tanto quanto lo è diciamo della bravura della capacità della volontà dei suoi e dell'amore diciamo per la democrazia e l'indipendenza dei propri abitanti. E questo è diciamo un dibattito che può sembrare astratto ma che invece poi se portato ai dilemmi dell'attualità è molto coggente perché la Svizzera è un paese diciamo che è neutrale quindi non fa parte della Nato e non fa parte nemmeno dell'Unione Europea. È un paese non nato che confina, circondata dalla Nato ed è un paese non UE pur essendo una piazza finanziaria fondamentale e quindi un centro di industria manifatturiera e finanziaria che in quanto tale risente fortemente del mercato comune diciamo di tutta la regolamentazione diciamo comunitaria delle dinamiche anche politiche diciamo all'interno delle UE. E infatti questo è un dibattito su cui gli svizzeri diciamo si accapigliano e questo è anche però per certi aspetti un altro grande enigma della Svizzera cioè come abbia fatto un paese di fatto così come dire invissolubilmente legato al suo contesto. Insomma ve la metti in battuta, i portoghesi diciamo per scappare dagli spagnoli potevano andare in America e farsi la colonia, il Brasile, del resto affacciavano sull'oceano avevano questa opzione, i svizzeri no. Eppure riescono effettivamente ad arrivare fino ad oggi con un assetto diciamo internazionale cioè di collocazione internazionale del paese rispetto alle diciamo grandi organizzazioni collettive che lo circondano che apparentemente è totalmente anacronistico specialmente in un momento di diciamo ritorno della guerra in cui in particolar modo essere fuori dalla Nato diciamo può creare i suoi problemi. Peraltro Nato e Unione Europea per molti paesi dell'est Europa cioè dell'ex partito di Varsavia sono di fatto due facce della stessa medaglia cioè sono uno la faccia militare e l'altro la faccia politico-sociale, economica della sfera di sicurezza occidentale cioè statunitense. Quindi a maggior ragione essere fuori da queste due organizzazioni è insomma tanto di cappello che un paese che ci è riuscito fino adesso senza crearsi danni irreparabili insomma. Però il dibattito in Svizzera è aperto su questo. Grazie e con questo ci ricolleghiamo soprattutto a un altro tema importantissimo quando si parla di Svizzera cioè la neutralità perché neutralità nel linguaggio comune ha un significato molto chiaro ma applicarlo alla politica estera di un paese è decisamente diverso e porto come spunto di riflessione due dati di sondaggio realizzati di recente per far capire da subito che neutralità non è indifferenza cioè che la popolazione svizzera è molto spaccata sul supporto da dare all'Ucraina in questo periodo di guerra con la Russia quindi il 41% vorrebbe supportarli di più e il 41% vorrebbe supportarli un po' di meno quindi c'è questa spaccatura. però se andiamo sulla fornitura di armi il 55% in qualche misura aiuterebbe l'Ucraina ad ottenere più armi approvando una modifica anzi facendo una sorta di dispensa speciale a una norma per la riesportazione delle armi prodotte in Svizzera perché come già dicevi prima sono comunque dei produttori di armi. Anche questo elemento come si inserisce in questa neutralità? Allora per quanto riguarda diciamo le armi tra l'altro la normativa svizzera prevede che in quanto neutrale il paese laddove accetti di fornire armi a paesi belligeranti direttamente o indirettamente autorizzando la riesportazione delle armi prodotte dalla Svizzera e la Svizzera ha una fiorente indossa degli armamenti acquistati però da paesi terzi quindi in questo caso non so la Germania, la Polonia o quello che volete voi dovrebbe farli in misura uguale ai due belligeranti quindi secondo la norma svizzera se gli svizzeri dovessero applicare alla lettera diciamo la normativa sulla fornitura di armamenti a paesi belligeranti che è una normativa che per l'appunto è formulata espressamente per garantire diciamo l'equidistanza che la neutralità comporta dovrebbero dare tanto agli ukraine e tanto ai russi cosa che chiaramente gli svizzeri non mi pare stiano facendo per fortuna. Ciò detto è vero se non sei neutrale cioè se non hai una tradizione storica di neutralità tendi e quasi nessuno ce l'ha effettivamente voi prendete diciamo il totale del novero degli stati esistenti oggi credo che di neutrali propriamente ce ne siano pochissimi tra l'altro la maggior parte degli stati neutrali in un momento X della loro storia hanno avuto la loro neutralità violata la seconda guerra mondiale da questo punto di vista insegna molto quindi è difficile trovare paesi neutrali ed è difficile trovare paesi neutrali che abbiano un'esperienza incorrotta diciamo così della loro neutralità la Svizzera effettivamente è tra questi e diciamo il fatto che sia una esperienza incorrotta non è da poco perché influisce molto sulla attaccamento anche emotivo alla neutralità e soprattutto sulla percezione della propria capacità di garantirla la neutralità perché il paradosso della neutralità è che ha bisogno del deterrente cioè se io non voglio se io sono tra due persone diciamo che se le danno di santa ragione e rischiano di darmele pure a me le cose sono due o scappo o mi schiero scappare non posso perché sono uno stato e ho un vincolo geografico o mi schiero ma allora non sono più neutrale oppure devo essere sufficientemente temibile o desiderabile da fare in modo che i due o più belligeranti non abbiano diciamo l'idea di attaccarmi questo la Svizzera lo ha fatto storicamente in due modi il primo che è diciamo quello anche più celebrato dalla retorica nazionale è avendo un esercito diciamo non insomma rispettabile per una potenza piccola come la Svizzera un esercito ben armato ben equipaggiato ben addestrato insomma un esercito che tra l'altro conosce molto bene il proprio territorio è addestrato a combattere bene sul proprio territorio e quello Svizzera è un territorio dove fare la guerriglia è molto facile perché è un territorio pieno di montagne quindi è un territorio in cui non è facile per chi attacca non subire forti perdite se l'esercito locale difende le posizioni con cognizione di causa l'altro modo un po' più taciuto diciamo dalla retorica nazionale ma che poi diciamo davanti a una birra o un bicchiere di vino insomma spesso esce fuori è diciamo la idea che difficilmente spari sul tuo banchiere cioè la Svizzera è un porto sicuro ora anche gli sconquassi bellici peggiori della storia umana la guerra dei trent'anni la prima la seconda guerra mondiale hanno sempre visto diciamo dei luoghi in qualche modo sicuri perché se questi luoghi vengono meno diciamo viene meno la qualsiasi certezza anche diciamo che un ordine sociale, civile istituzionale possa sopravvivere alla guerra ecco storicamente la Svizzera ha assolto a queste funzioni assolto a questa funzione come diciamo cavò banalmente assolto a queste funzioni anche come terra di asilo se voi andate a vedere la quantità di politici industriali rivoluzionari Marx per esempio Karl Marx insomma di esponenti a vario titolo della diciamo della delle fondamentalmente diciamo delle elite dell'establishment ma anche delle diciamo di quelle parti di società civile che poi hanno contribuito diciamo a dare la direzione politico-economica dell'Europa e spesso anche non solo dell'Europa nel corso quantomeno dell'ottocento e del novecento molti di questi a un certo punto sono scappati in Svizzera e ci hanno passato un certo momento Ticino ha accolto una marea di diciamo per esempio protagonisti del risorgimento italiano antiasburgici per esempio ecco allora questa è la parte diciamo deterrente se volete poi però c'è l'aspetto della neutralità attiva cioè in realtà la neutralità come la intendono i veri neutrali la Svizzera non è una fuga dal mondo perché non sono così scemi e diciamo così ingenui da pensare di poter fuggire dal mondo è una neutralità che potremmo diciamo definire schierata se voi andate a prendere e sono stati resi pubblici insomma dopo il 89-91 quindi soprattutto dopo il 91 dopo il crollo dell'URSS nel corso degli anni 90 primi anni 2000 sono stati insomma desecretati i piani di guerra terrestre nato patto di Varzavia voi vedete che nei piani della Nato di difesa gli stati alpini come la Svizzera come l'Austria il nord Italia la famosa soglia di Gorizia e quant'altro erano pienamente inseriti anche quelli neutrali quindi anche la Svizzera nei piani di difesa perché perché gli eserciti di questi paesi avevano per l'appunto il compito di rallentare le ondate di fanteria del patto di Varzavia quindi verosimilmente gli ungheresi polacchi poi gli ucraini e i bielorussi poi i russi per dare al tempo agli americani che avevano soldati e basi qui ma non in misura sufficiente a fare una guerra di quel genere di prendere le truppe dal nord America portarle attraverso l'Atlantico farle sbarcare qui e metterle a combattere quindi in realtà la neutrale della Svizzera è una neutralità tra virgolette sui generis ma questo vuol dire che non è neutralità per gli svizzeri no perché appunto diciamo è questo uno schieramento potenziale che però non è mai stato messo poi all'atto pratica alla prova la contraddizione se ce la vogliamo proprio trovare maggiore strategica della neutralità di un paese come la Svizzera oggi che tra l'altro fa della Svizzera da questo punto di vista probabilmente diciamo un caso di studio interessante al di là della Svizzera stessa non è tanto diciamo il fatto che la Svizzera in caso di una guerra fuori tutto diciamo così stia con l'Occidente insomma è anche abbastanza intuibile se vogliamo se obbligata il problema diciamo è che in realtà parte della deterrenza Svizzera che permette alla Svizzera di essere neutrale è la Nato cioè il fatto di essere geograficamente conficcata dentro la gamba europea della Nato e questo diciamo è qualche cosa che effettivamente di cui l'elite svizzera politica diplomatica economica dibatte specialmente dalla guerra in Ucraina in poi e di cui e con cui molti svizzeri non solo politici ma anche gente diciamo come noi insomma comune fa un po' fatica a venire a patti cioè in fin dei conti tu sei un neutrale per varie ragioni ma anche perché sei indirettamente garantito dalla Nato indirettamente cioè non stiamo parlando di articolo 5 no il famoso articolo 5 se se un paese terzo muove guerra uno stato della Nato automaticamente scatta la clausola di salvaguardia e tutti gli altri se richiamati diciamo devono andare in soccorso questa è una garanzia indiretta se volete ma nel caso svizzera è ancora più indiretta cioè prima di arrivarci alla svizzera tu c'è la Nato dappertutto e tra l'altro dopo l'ingresso con l'Ucraina con la fortificazione del fianco est e l'ingresso nella Nato di Finlandia e in prospettiva anche Svezia dal momento che i turchi hanno finalmente detto sì perché il prezzo era giusto ovviamente diciamo questo questo cuscinetto Nato si allarga ancora di più questo diciamo è effettivamente un aspetto un po' paradossale della faccenda che resta lì e speriamo di non dover mai scoprire cosa farebbero in caso di guerra Nato qualcuno e purtroppo non abbiamo tempo di approfondire il rapporto tra Svizzera e Torino in particolare con Cavour ma per questo avete l'occasione di acquistare il volume e approfondire attraverso il contributo che è contenuto come sempre è in vendita all'uscita però una cosa sola la possiamo dire però una a una come insomma siamo a Torino spero comunque immagino molti di voi sappiano la lingua in cui si esprimeva normalmente Cavour non era l'italiano e il francese e questo non era perché lui avesse ascendenza francese ma perché la mamma era di Ginevra e questo diciamo ha un impatto non scontato è forse un po' troppo negletto nella nostra storia perché chiaramente diciamo come dire nella pedagogia dello Stato Unitario lasciatemi diciamo passatemi la semplificazione pare un po' brutto che uno dei patri della patria diciamo non fosse diciamo la quintessenza dell'italiano ammesso che esista la quintessenza dell'italiano essendo noi un sangue abbastanza misto come popolo però tant'è e questo impatto è un impatto interessante perché non è tanto diciamo l'aliason svizzera Italia che pure c'è fin dall'inizio quanto il fatto che questo ha su Cavour che è un Cavour politico ma anche un Cavour come sapete imprenditore insomma i Cavour sono una famiglia abbastanza insomma di mondo un impatto anche sulla sulla concezione che Cavour ha diciamo del modo di utilizzare di fare infrastrutture di fare finanza cioè diciamo che l'impronta della Svizzera franco-tedesca è un'impronta diciamo che attraverso Cavour plasma in parte anche diciamo le politiche e le pratiche dell'Italia liberale cioè di quella prefascista e questo è molto interessante devo dire perché al di là del dato culturale propriamente detto attraverso diciamo Cavour diciamo delle delle pratiche e delle concezioni proprio politiche improntano fin da subito imbevono insomma lo stato italiano poi sapete che Camur muore della fatica di fare l'Italia praticamente subito però diciamo questi imprinting in qualche modo sopravvive anche poi nella classe insomma liberale però lo lasciamo per le letture serali di l'Italia di di